Un saluto da Dr. Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia, dove ogni anno realizziamo più di 4.000 bocche complete su impianti dentali di pazienti che hanno perduto completamente i denti. Quello che stiamo facendo qua oggi è un'impronta digitale, come vedi qua a monitor, di un paziente che ha posizionato 6 impianti dentali e come vedi abbiamo proceduto con lo scanner intraorale con la scansione di quelli che sono i tessuti gengivali e tra poco posizioneremo sopra agli impianti dentali stessi questi pin in titanio che ci diranno esattamente dove sono gli impianti dentali inseriti. Nella bocca del paziente vengono fissati sopra gli impianti questi rilevatori di posizione e nel monitor del computer puoi vedere che il software identifica la posizione corretta nella bocca del paziente degli impianti dentali. Questa posizione è fondamentale poi per iniziare quella che è la procedura di lavorazione del progetto dei denti nuovi del paziente. Questo che vedi qua è il futuro, questo è l'apparecchio iCam 4D che ci permette di realizzare una scansione di dove sono stati posizionati gli impianti dentali e attraverso internet di andare a trasmettere nel mondo o dal mondo questa è la grossa implicazione di cui parliamo in questo video le impronte degli impianti dentali. Il paziente come vedi sta venendo completamente digitalizzato abbiamo qua che è stata fatta, che sta venendo fatta l'impronta delle gengive del paziente e dopodiché andremo a prendere l'impronta degli impianti dentali tutto questo viene combinato in cloud e verrà quindi trasmesso vieni con me ti faccio vedere qua abbiamo in postazione i ragazzi che si occupano della telemedicina i dati verranno caricati qua sul nostro software di progettazione e come puoi vedere abbiamo un software dove vengono caricati i dati e è eseguita la progettazione dei denti la progettazione la possiamo eseguire qua da noi oppure dall'altra parte del mondo da New York, da Londra oppure dall'Australia possono connettersi i nostri designer e andare a creare quelli che sono i design dei denti o viceversa noi possiamo ricevere con questo apparecchio i dati da New York o da Londra o dall'Australia andare a produrre il design dei denti e mandarle indietro oppure un'altra cosa che possiamo fare vieni ancora con me, te la mostro e andare direttamente a produrre qua i denti da montare nella bocca del paziente che si trova a Londra o a New York vedi qua siamo nel centro di produzione dei denti e qua vedi i robot che vanno a produrre i file tridimensionali che nel software erano stati progettati e qua dalla polvere di titanio vengono fuori le barre in titanio che serviranno poi per creare i denti qua di fianco invece abbiamo i robot che vanno a fresare dai dischi di zirconio quelli che saranno invece i denti da mettere sopra alle barre in titanio lo stesso possiamo fare per esempio con i denti provvisori noi possiamo andare a creare dei denti provvisori in questo caso in PMMA da mettere in bocca del paziente dopo la chirurgia capisci quindi come sta cambiando il mondo il mondo sta andando molto velocemente e tutta quella che è la produzione del dentale sta subendo gli effetti della rivoluzione robotica che cambierà completamente il mondo della odontoiatria si possono oggi fare impronte ai pazienti di New York possiamo ricevere noi i file possiamo creare con i robot i denti e mandarli con DHL o IPS direttamente a New York io ti faccio un saluto qua dall'istituto sviluppo e ricerca bocca bionica in Moldavia se sei anche tu uno di quei pazienti che necessita di ricostruire completamente la bocca e cerchi un centro avanzato tecnologicamente che usa gli ultimi protocolli troverai qua i riferimenti per contattarci ciao